Guarda che io ho letto la scrittura del nostro Adamo e ti posso garantire, dici di che per tre anni, questo l'ha scritto il nostro Adamo, per tre anni moriranno tre papi all'anno, poi per un anno mora un papo ogni tre anni e dopo il scutetto lo vince, lo becca, lo becca sempre. Tanto becca questa contravissione, sono 200.000 lire. Questo però il nostro Adamo non l'aveva scritto, scusa. Eh no, non l'aveva scritto, ma noi ci si è scritto, o appoggio, è l'ultima fine a mezzanotte, se no ti si fa un culo così, ciao. Ma cazzo Paolo, che scherzo, arabo? Ma rollo, vivo la mucca, che scherzo la beneducca, andiamo, 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 vada. E adesso come ci arrivo a Torino, se dobbiamo restare qui fermi fino a mezzanotte? Ma che me ne frega a me, come fai ad arrivare a Torino, scendetevi a piedi, c'è un primo canale di getto dentro la nuota in loro sala, e poi la dora batta, dora ripari, e c'è un po', sale un po', sale un po', sale un po', sale un po', fino a Torino e poi esci di ballo, scusa. Poi tra le parenti, devo dirti una cosa, la mucca non era tanto lei che portava rogna, sei te che è una rogna tremenda. Ah si, porto rogna, e allora sai che ti dico, che finirete in serie B. Marone, Marone, in serie B, raggiù andus, Marone, queste malocchie, tu caverra, tu caverra, schifezza umana, scendete qua, gay.